Ciao a tutti, sono Riccardo Pera, sono qui in Bahrain per l'ultima prova del campionato del mondo endurance. I ragazzi hanno fatto insistemare la macchina adesso perché appunto domani abbiamo le prove libere, io nel pomeriggio parla sera. Qua siamo due ore avanti rispetto a Italia e niente, speriamo di fare un bel risultato appunto perché essendo l'ultima gara come già anticipato siamo terzi in campionato e bisogna difendere questa posizione. e comunque sia sempre con le giuste precauzioni e un pensiero vale per le persone che soffrono di coronavirus. Ciao a tutti!